Allora, benvenuti i nostri videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo un grande onore e piacere di avere con noi un importante accademico che ha appena pubblicato un saggio molto interessante dal titolo Venezia prima di Venezia, mito e fondazione della città lagunare. L'autore è Giorgio Rovegnani, l'editore è Salerno editrice e quindi io non perdo tempo in chiacchiere inutili ma lascio subito la parola al professor Rovegnani che ci racconta Venezia prima di Venezia. Prego, professore. Va bene, grazie. Allora, questo titolo vuole essere accattivante, spero lo sia. È stato indicato, peraltro, nella casa editrice e ho provato perché mi sembra che renda un po' l'idea dello scopo al quale si vuole arrivare, cioè Venezia prima di Venezia. Venezia è una città particolare, lo è tuttora, in quanto nasce laddove e probabilmente nessuno avrebbe mai pensato di creare una città se non ci fossero verificati i avvenimenti che poi vedremo del tutto particolari. Comunque non è una città che sorge dall'oggi al domani, insomma non c'è Romolo e Remo che tracciano il perimetro delle mura. Venezia nasce in un modo piuttosto fortunoso e piuttosto lungo, tra l'altro, la costruzione, quella che poi sarebbe stata la città, perché inizialmente non è una città vera e propria, è una federazione di isole, delle capitali più o meno evanescenti, quella che sarebbe stata divenuta poi la città ha una genesi che dura in grosso modo una settantina di anni, cioè il periodo che è relativo allo spostamento delle popolazioni dalla terraferma verso la laguna. Poi però la Venezia in nuce che equivale, almeno dal punto di vista architettonico, cioè che anticipa dal punto di vista architettonico la Venezia che siamo abituati a conoscere, in altre parole con il centro a rialto, comincia a prendere forma nella prima metà del IX secolo, ma la cosa non finisce lì perché Venezia nasce sotto leggi dell'impero di Bisanzio, rimane sotto il dominio di Bisanzio per parecchi secoli, per parecchio tempo, direi in grosso modo un secolo e mezzo o anche più, e poi però mantiene un rapporto privilegiato con Bisanzio, nel senso che alleata di Costantinopoli, risente dell'influsso culturale di Costantinopoli, mantiene anche dal punto di vista istituzionale un rapporto stretto con l'impero d'Oriente e mal mano che si libera da questo rapporto, da questa dipendenza, crea una propria fisionomia particolare che dà origine, dal punto di vista politico e istituzionale, alla Venezia dell'età piena, dalla Venezia che siamo abituati a considerare tale. Questo fenomeno secondo me si può comprendere, non solo, secondo me veramente sono in più a dirlo, tra la costruzione, la fondazione dell'origine dell'agglomerato nagulare e direi sempre indicare una data che ha un valore relativo come tutte le date, cioè il 1204, quando si passa, si inverte il rapporto tradizionale tra Venezia e Costantinopoli da dipendente, anche se molto scontrosa, di Costantinopoli, lì Venezia diventa padrona di Costantinopoli fondando l'impero latino d'Oriente. Come in tutte le città importanti, anche i veneziani elaborano dei miti sull'origine della loro città, miti che li gratificavano naturalmente, che vogliono dare un tono, una rilevanza alla straordinaria città delle lagune e questi miti sono diversi, sono più di uno, hanno delle origini, hanno però dei fatti in comune, ovvero sia molto spesso, quasi sempre si parla delle origini selvagge della città di Venezia, ovvero che le isole sarebbero state colonizzate tra VI e VII secolo in un territorio pressoché desertico, dove poi sarebbe stata edificata la città. Questo è vero fino a un certo punto, perché i veneti, chiamiamoli anche veneziani di terraferma, arrivano nella nuova destinazione, probabilmente come insalutati ospiti, cioè qualcuno doveva già esserci, era della verità, certamente non c'erano nell'area lagunare degli insegnamenti imparagonabili a una civiltà evoluta, alla grande città, ma dovevano queste aree lagunari essere completamente deserte, cioè noi possiamo credere fino a un certo punto al mito di Venezia secondo cui i profughi dalla terraferma arrivano a trovare il deserto, costruiscono le loro case, le loro chiese, insomma si danno una nuova forma di vita. Vero sì, ma vero fino a un certo punto. D'altra parte nessuno di noi c'era, quindi le cose, come si sa, nella storia possono essere riferite attraverso le fonti letterarie o dalle fonti materiali. In un caso o nell'altro Venezia è molto avara. Le fonti letterarie sono tardissime, cominciano a comparire nel XI secolo le fonti veneziane che parlino dell'origine della loro città, mentre quelle orientali, quelle bizantine, se ne occupano pochissimo di questa realtà lagunare. C'è dunque questo elemento fondante del mito. Il secondo elemento fondante del mito che ritorna in tutti gli storici che si sono occupati del problema, i storici medievali che si occupano e moderni del problema, è quello dell'originaria indipendenza di Venezia. Secondo veneziano del Medioevo, la città nasce libera. Nasce libera perché vi arrivano, come sappiamo, gli abitanti della terraferma, costruiscono, edificano il loro nuovo insediamento e non devono rendere conto a nessuno di quello che fanno. Questo è una cosa non credibile perché Venezia, noi sappiamo, nasce nell'orbita bizantina e si mantiene per parecchio tempo nell'orbita bizantina. Naturalmente questo non piaceva ai veneziani quando la città è diventata importante e quindi gli storici lagunari guardano un po', sono un po' stravici, insomma guardano un po' o solo a destra o solo a sinistra per quanto concerne la fondazione e la genesi della loro città. I bizantini ci sono, ma compaiono come amici simpatici o amici antipatici a secondo delle circostanze, ma che non hanno messo un piede direttamente nella laguna, nella nascita, nell'organizzazione della città delle origini. Ripeto, questo non è vero, noi lo sappiamo che non è vero. Infatti anche altre ipotesi su dove arrivassero questi veneziani. Alcuni dicono, i veneziani hanno recentemente, i veneziani delle origini neoslavi, può darsi che fossero anche marziani, non ha nessuna importanza. Sta di fatto che noi siamo in grado di ricostruire, di ripetere il movimento che viene fatto da ovest verso est, cioè dalla terraferma verso le lagune, perché grossomodo lo conosciamo, anche se non in maniera del tutto esatta. Siamo anche in grado di dire però che tutto questo movimento, piaccia o non piaccia, viene sotto legge di Bisanzio. Bisanzio controllava i territori dell'Italia settentrionale prima dell'arrivo del Longobardi. Quando arriva del Longobardi deve recalcetrare, deve indietreggiare, è meglio dire. Però cerca di mantenere dei capisaldi e questi capisaldi, man mano che passa il tempo, si riducono, come vedremo tra poco, all'area lagunare. Poi, d'altro non c'era niente di strano a derivare, a essere eredi della civiltà bizantina. Forse anche questo piace ai veneziani, perché i secoli amano Bisanzio e sono vicini a Bisanzio. Non piaceva loro sapere o dire che i bizantini inizialmente li avevano controllati, che era nata la loro città come una costola dell'impero di Costantinopoli. Il mito sulle origini di Venezia ha diverse voci, diversi aspetti. Si parla di Venezia miracolosamente fondata di San Marco, che miracolosamente annuncia che le sue spoglie sarebbero state conservate in quella città che la città sarebbe stata fondata. Si parla di una fondazione di Venezia nel 421 ad opera dei veneziani. I consoli padovani improvvisamente fondano la città nell'anno 25 marzo del 421, una balla clamorosa. Poi ai veneziani nemmeno piaceva l'idea che i padovani avessero in qualche modo interferito nelle loro cose. La leggenda più accreditata sulle origini di Venezia, più accreditata nel senso che più diffusa e anche, oserei dire, più elegante, non ha un aspetto miracoloso con quella di San Marco che predice la sua sepoltura nella città e la città che sarebbe sorta in suo nome. È la cosiddetta leggenda di Attila. Perché dicevo, in un certo senso, quella che ha delle radici storiche, sia pur relative, un po' più solide, per il semplice fatto che l'invasione di Attila effettivamente in Italia c'è. Nel 452 gli unni del re Attila invadono l'area venetisca. Entrano in Italia dall'Oriente, normalmente come facevano gli invasori che arrivavano dall'Oriente attraversano le Alpi Giulie, dilagano nella pianura veneta, gli unni di Attila distruggono la città di Aquileia, probabilmente prendono anche altri centri del Veneto, che le informazioni che abbiamo non sono in tutto chiare, può dare che Padovaltino siano ugualmente cadute in mano agli unni. Poi a un certo punto, come sappiamo, se ne vanno. Se ne vanno secondo la tradizione, perché il Papa Leone I avrebbe incontrato Attila e l'avrebbe convinto a tornare indietro, ma forse la storia viene un po' più elaborata di questo racconto edificante. Comunque in questa sede non ci interessa farlo. Ciò che ci interessa in questa sede è che sicuramente quando arriva Attila, teniamo presente che gli unni o gli altri invasori che arrivano nel V secolo in Italia e altrove non erano come Boy Scout, non erano come le più donne di carità, insomma erano piuttosto pesanti quando arrivavano. Sulla onda di questa invasione le popolazioni sicuramente fuggono, sfollano il laguna laddove gli acquitrini davano una certa ma relativa sicurezza. Un barbaro fosse questo un uno, un germano, come altre volte i germani invadono in Italia, non si avventurava in acqua perché non aveva simpatia dell'acqua, proprio che non vuole neanche perdere tempo. Cos'avate in laguna a prendere gli ortaggi e altre cose quando posso benissimo razziare le città ricche della terraferma. Quindi questo dava agli abitanti la sicurezza relativa di stare tranquilli, insomma di non essere mandati all'altro mondo. e inoltre conferiva loro la possibilità, una volta finita l'invasione, come normalmente succedeva, tornassene a casa. Ho lasciato la mia bella casetta, potevo dire un veneto nel tempo a Padova, un bel giardino, i polli o i conigli o tutto quello che mi serve, la mia casa a tre piani. Sono andato a stare in una baracca di legno e paglia in laguna. Cioè non mi riducono uno spiedo, i barbari, me ne torno a casa mia. Questo è il fenomeno naturale, ovvio è successo anche nell'ultima guerra con il fenomeno degli sfollati. Però su questo avvenimento si costruisce, quando non lo sappiamo, come non lo sappiamo, si costruisce una leggenda. Una leggenda che si lega a un avvenimento che aveva molto traumatizzato le popolazioni del tempo, l'invasione degli uni. Gli uni erano come dei bestioni terribili, dove si diceva infatti che dove passava Attila l'erba non ricresceva più. Questo fatto, l'invasione degli uni, terrorizza i contemporanei e lascia nella memoria collettiva anche dei posteri un ricordo molto profondo. Un mio collega che adesso purtroppo è scomparso mi diceva che era un friulano. Dalle nostre parti le mamme quando volevano spaventare i bambini che erano un po' indisciplinati dicono, guarda che se non fai il bravo arriva Attila con gli uni o qualcosa del genere. Adesso magari dico, guarda che se non fai il bravo ti tolgo il computer per una settimana. Allora noi diciamo, se non fai il bravo arrivano gli uni. Certamente è vero se me lo diceva lui che ormai è maggior che questo tipo di mamme siano istinte, ma è significativo di come nella memoria collettiva questo drammatico, questo terribile avvenimento si è sopravvissuto, si è sopravvissuto per secoli. E cosa dice la leggenda? La leggenda dice che i veneti della terraferma appunto è arrivato Attila e si rifugiano nelle zone della laguna, zone desertiche della laguna, precisa l'autore, e qui costruiscono le loro dimore, che costruiscono la loro nuova città e quindi prendono fissa residenza. È piuttosto curioso che la prima formulazione che noi conosciamo di questa leggenda risale a un autore bizantino, non un veneziano. Risale infatti all'imperatore Costantino VII Porfiro Genito, il quale è sovrano di Bisanzio dal 913 al 959. Costantino VII Porfiro Genito, in quanto nato nella porfira, nella porpora, era il titolo che aspettava a sovrani e principi di Bisanzio, per parecchi anni è stromesso dal trono e naturalmente non sapeva cosa fare. Quindi si dedica alla cultura e ci ha lasciato delle opere importanti. Ci ha lasciato un libro sulle cerimonie di corte, che è un capolavoro, ci permette di ricostruire, anche se molto complicato, insomma come ci si muoveva la corsa di Costantinopoli a quell'epoca. Ci ha lasciato un libro sui temi, cioè sulle regioni periferiche dell'impero di Costantinopoli, e un libro sull'amministrazione dell'impero. questo libro, egli parla dei popoli che direttamente o indirettamente erano venuti a contatto con i bizantini. E tra questi popoli hanno avuto appunto i veneziani, racconta la mitica fondazione della città, racconta un avvenimento posteriore che qui vedremo molto disfuggita, ovvero sia il tentativo da parte dei Franchi di conquistare la Laguna Veneta, sono uno dei primi anni del nonno secolo. Dove l'aveva saputo Costantino VII? E chi lo sa, vate la pesca. Poco accademicamente dico ai miei studenti, quando non so come risolvere un fatto storico, dico qui bisogna rispondere vate la pesca, bisogna rispondere così in questo caso. Probabilmente gliele aveva detto qualche veneziano presente a Costantinopoli, gli aveva raccontato come era nata la loro città e tutti gli avvenimenti che si connettevano a questo fenomeno. Curioso però per noi che già verso la metà del X secolo si sappia, si conosca questa leggenda di Attila che poi verrà elaborata, ripetuta, elaborata anche sotto forma di romanzi eccetera. Cosa dice Costantino Porfirio Geneto? Mi piace sempre leggere questo passo perché non è facile trovarlo, Costantino Porfirio Geneto, come non è facile trovare la letteratura bizantina anche se adesso va molto di più di quando non andasse, quando ero un giovane studente, studioso, cent'anni fa, c'è molto più interesse per i bizantini, ma molte fonti è difficile trovarle. Già un tempo Venezia era un luogo deserto, disabitato e paludoso. Coloro che oggi si chiamano venetici, infatti i bizantini chiamavano venetici, i veneziani, anche i veneziani si chiamano venetici in origine, erano franchi di Aquileia, erano franchi, si chiamavano latini, erano romani, chiamavano, di Aquileia e di altre località della terra dei franchi e abitavano nella terraferma di fronte a Venezia. Quando arrivò Attila, re degli Avari, non è vero, devastando e spopolando tutta la Francia, tutti i franchi cominciarono a fuggire da Aquileia e dagli altri centri fortificati della loro terra raggiungendo le isole disabitate della Venezia e qui costruirono le loro capanne per paura del re Attila. Quando questo re Attila ebbe devastato tutti i luoghi della terraferma giungendo fino a Roma e alla Calabria, anche questo non è vero, ma è lo stesso. E lasciando fuori Venezia, coloro che erano fuggiti nelle isole di Venezia, avendovi trovato sicurezza e un modo per mettere fine ai loro timori, decisero di prendere di mora e qui fecero, così abitando in questo luogo fino ai nostri giorni. E' una bella gente, devo dire, dall'oggi al domani queste popolazioni si spostano in laguna, dicono che qui stiamo anche bene, tutto sommato, mangiamo, abbiamo pesce, cacciagione, magari un po' umido l'ambiente, stiamo qui, decidono di stare lì e li costruiscono questi pseudo franchi di terraferma, il loro nuovo insediamento. E in realtà, lasciando anche a perdere la spiegazione leggendaria, è possibile, come accennavo prima, anzi oggi si tende a dire che è probabile, insomma, che arrivando dalla terraferma questi venetici non abbiano, non siano poi stati insalutati ospiti, insomma, non è che siano arrivati nel deserto del Sahara. Trovano, con ogni probabilità, degli insediamenti già esistenti. Insediamenti certamente non importanti, non dobbiamo pensare che esistessero i grattacieli di Manhattan nella laguna Veneta, ma dovevano esistere forme abitative non tanto importanti, insomma, per spiegarlo in italiano corrente dovevano esserci i taglomerati di salinari, di pescatori che già stavano lì abitualmente. Infatti noi sappiamo che la laguna Veneta è un elemento vitale già nell'epoca romana, non è che fosse un corpo assolutamente straneo al mondo romano, i romani la conoscevano e in parte in parte anche la praticavano. I romani arrivano nella Venezia e nella seconda metà del secondo secolo avanti Cristo la conquistano senza porsi grandi problemi e cosa fanno? Quello che facevano abitualmente i romani, insomma, sviluppano i commerci, le attività, incentivano le città importanti che esistevano, costruiscono strade soprattutto. La strada più importante che percorreva l'area Veneta per salire a Quileia, poi andare ancora più in su, era la Viannia, di cui qualche avanzo si vede tuttora. Le città romane dell'area orientale, del vento orientale, che già c'erano, che si sviluppano nel corso del tempo, sono poi le città che daranno origine alla migrazione lagunare. Tra queste città il posto più importante sicuramente va riservato a Quileia. Quileia era fondazione romana, era un castolo romano che poi diventa un'importante città. Importante città soprattutto perché aveva una funzione militare di un certo rilievo, ovvero proteggere la frontiera orientale. Poi nell'epoca tardoantica questo compito, dopo la distruzione di Quileia fatta da Attila, passa a Civitale Friuli, a Forum Giuli, alla vicina Forum Giuli, che sostituisce dal punto di vista strategico Aquileia, che continua a sopravvivere anche se deve essere molto malandata, nel corso del tempo poi diventa sempre più malandata. E ancora nell'area orientale del Veneto fioriscono la città di Padova. La città di Padova, secondo la tradizione, secondo la leggenda, anche Padova la sua leggenda, Padova sarebbe stata fondata Antenor in fuga da Troia. Anche i veneziani poi a un certo punto nella storia del mito, nell'elaborazione della storia del mito che ho sorvolato per motivi di tempo, tirano fuori l'origine troiana delle popolazioni venete e anche di questo si vantano in un certo senso, ma non ragioniamo di loro, ma guarda e passa in questo caso. Padova probabilmente fondata da pescatori del Brenta verso il IX secolo prima di Cristo ovviamente, quindi è di tradizione, di fondazione perere romana. Padova in ordine casuale di importanza, poi si affiancano Altino, che è ugualmente città di fondazione pre-romana, Altino che poi viene a trovarsi lungo la Viannia. Altino oggi è una città che di fatto non esiste più, non esiste più perché dopo che viene abbandonata nel VII secolo rimane lì e si sa che le lagune mangiano parecchio, ma inoltre viene utilizzata in maniera abbastanza sistematica come cava di pietra, di materiale di costruzione dei veneziani. Per cui se oggi andiamo a Altino troviamo un bel museo romano, piccolino ma molto carino, troviamo qualche rudere, qualche avanzo di casa, un pavimento e altro, un pezzettino anche delle vecchie mura. Dove era però? Doveva essere una città importante, una specie di Venezia perché anch'essa doveva avere una configurazione di tipo lagunare. Poi ancora, nelle città importanti dal nostro punto di vista, tutte le città sono importanti naturalmente, ma Brescia e Bergamo, che pure fanno parte della Venezia romana, a noi non interessano perché non contribuiscono alla nascita di Venezia. Oderzo, quest'altra città importante, è ugualmente di fondazione preromana. I romani la chiamavano Opiterjum, mentre la vicina Concordia, Iulia Concordia, che ancora esiste, come pure Oderzo, ancora esiste, ancora lì. Iulia Concordia, di fondazione romana, viene fondata verso il 40 a.C. dai Triunvi, rinsegno di pacificazione. Nell'Ottocento prende poi il nome di Concordia Sagittaria, perché esisteva una fabbrica di sagitta di frecce. Il nome che se non era conserva tuttora, ma è un nome abusivo, poi non è il nome originario della città. Inoltre possiamo anche aggiungere tra le città concorrenti allo scopo, anche Treviso. Treviso non ha molta importanza, dire la verità, in epoca romana. Ne assume in epoca tardo romana, perché diventa un centro militare degli ostrogoti. Ma anche i trevisiani, in qualche modo, concorrono alla nascita della nuova città, città lagunare. Tutte queste città hanno delle caratteristiche peculiari, ovvero sia sono connesse alla costa attraverso dei fiumi navigabili che naturalmente incidono sul commercio, sugli scambi, sulla vitalità delle città stesse. Ad esempio da Altino si poteva raggiungere attraverso il Sile, la costa, da Aquileia attraverso il Natiso, cioè il Natisone, da Concordia attraverso il Lemene, da Oderzo attraverso l'Alivenza. Questi fiumi navigabili, in quanto tali, sono noti già in realtà romana e sono praticati ovviamente in realtà romana. Si portano le merci sulla costa, dalla costa si portano le merci nella città. Il rilievo che dovevano avere dal punto di vista sociale ed economico è evidente di per sé, ma c'è bisogno di soffermarsi più di tanto. Inoltre, ancora in epoca romana, noi sappiamo che esisteva un itinerario interno, oltre alle strade che ho ricordato, un itinerario interno che i romani chiamavano i Sette Mari. Questo itinerario interno anche esso anticipa qualche cosa di Venezia. Infatti si trattava di una serie di specchi d'acqua, formati o da quetrini o da canali naturali e artificiali che mettevano in connessione uno con l'altro, che permettevano la navigazione interna da Ravenna fino ad Altino, poi probabilmente ad Altino si proseguiva anche fino ad Aquileia. Qual era il vantaggio, l'importanza di queste Sette Mari, i cosiddetti? L'importanza è ancora di natura, soprattutto di natura commerciale. infatti permettevano la navigazione interna anche nella brutta stagione. Noi dobbiamo tenere presente che i romani non amavano navigare d'inverno, anzi nelle stagioni che andavano diciamo da ottobre a marzo, aprile, insomma da autunno a primavera, parlavano di mare chiuso, mare clauso, non è prudente navigare in mare aperto perché arriva una tempesta e affondi, mentre si poteva tranquillamente passare in questo itinerario interno. Le imbarcazioni, che non erano traslatlantici ovviamente, non erano le titaniche, passavano bene, venivano spinte dal vento, dai remi o tirate dagli uomini, dagli animali, da terra e si poteva mantenere viva un'attività di scambio che altrimenti sarebbe stata chiusa per molti mesi. Ovviamente tutto ciò anticipa Venezia, l'anticipa perché anche Venezia sarà una civiltà prettamente, ovviamente lo sappiamo tutti, una civiltà prettamente lagunare, quindi già in epoca antica abbiamo qualche cosa che ci rende l'idea del futuro assetto di questi territori. Ripeto, le testimonianze sono molto poche, come poche sono le testimonianze sulle origini di Venezia, però per quanto concerne l'itinerario interno e la conformazione della laguna, noi abbiamo una importante fonte che è il romano Cassiodoro. Chi è il romano Cassiodoro? Flavio Aurelio Cassiodoro, era un senatore romano originario di Squillace, il quale vive e opera quando l'impero romano d'Occidente è già caduto. Ed è ministro dei re Ostrogoti, dei re Ostrogoti che dominano l'Italia, fino ad arrivare alla carica di prefetto del pretorio, che era il principale funzionario civile presente in Italia. Cassiodoro vive molto e scrive anche molto opere di vario genere, anche di grammatica. Alla fine, quando è un po' vecchiotto si ritira dalla vita pubblica, va a Squillace, dove fonda un monastero, erano parecchi a farlo in quell'epoca un po' disperata, siamo dopo il 538, durante l'imperversare della guerra gotica in Italia, dicevano che non ne posso più di queste guerre, di questi tormenti. Infatti Cassiodoro era un pacifista, non aveva voglia di vedere né romani né gotici che si scannavano allegramente gli uni con gli altri. E questo monastero, a cui dà il nome di Vivarium, è stato un monastero molto importante per il semplice fatto che vi raccoglie Cassiodoro una biblioteca e avvia, attraverso i suoi sottoposti, un'attività che poi sarà caratteristica del Medevo, ovvero sia la copiatura, la copiatura dei manoscritti. Purtroppo del Vivarium nella biblioteca di Cassiodoro esistono più. Esistono le opere di Cassiodoro e tra queste opere di Cassiodoro, che sono anche molto pubblicate da leggere, perché sono scritte in uno stile molto ampolloso, fortemente retorico, come andava di moda allora, c'è una raccolta che si chiama Le Varie. Queste varie sono le lettere ufficiali scritte dal nostro romano durante l'esercizio della sua carica. E una in una di queste varie che mi pare sia la ventiquattresima del dodicesimo libro, non so, mi pare, ormai la mia età l'Alzheimer comincia a fare per tutti i scherzi. Comunque non ha importanza, volendo la si trova. Cassiodoro parla della Laguna Veneta. E perché Cassiodoro parla della Laguna Veneta? Perché siamo nel pieno della guerra gotica, siamo nell'inverno 537-538, e gli ordina ai tribuni marittimi, che dovevano essere dei funzionari portuali, tribuni marittimi delle Venezie, di portare dall'Istria a Ravenna delle Derrate, di cui i Ravennati avevano bisogno. E ordina loro di farlo attraverso appunto la navigazione interna, la navigazione indolagunare. Si sofferma sul fatto che loro avevano delle caratteristiche particolari, che potevano appunto navigare quando il mare era normalmente chiuso. Quindi, cosa ci dice Cassiodoro? Che ancora alla sua epoca, nella metà del VI secolo, esistono i sette mari, sono praticati i sette mari, che quella attività di passaggio, di scambio attraverso gli specchi lagunari, era pienamente in attività. Ma il nostro Cassiodoro non si ferma lì. Egli descrive anche le lagune veneste. Dice, ci piace raccontare, come abbiamo visto, le lagune venete, quando ci siamo stati apparentemente, sembra essere stato nella laguna. E dice che si tratta di territori molto ampi, ma pressoché desertici, dove ci sono pochissime capanne, più case, sparse qua e là, nelle isole, laddove gli abitanti, anziché mettere, come facevano tutti i normali cristiani, il cavallo davanti a casa, quelli che l'avevano, nel cavallo moso, quello che potevano avere, mettevano la barca. E inoltre, dice voi, avete abbondanza di pesce, vivete mangiando il pesce che pescate e producete il sale. Quindi non era un po' di territorio del tutto selvaggio. Sono producione sale, evidentemente lo vedevano. Quindi un po' di attività, diciamo, normale c'era. Questo vi rende della gente particolare. Aggiunge perché non avete, come le altre persone, il problema dell'invidia, della cattiveria. Vivete come buoni selvaggi, insomma, una specie di isola che non c'è. Questa è almeno la testimonianza del nostro Cassio d'Oro. Leggo anche questa brevemente. Tanto oggi mi è stato dato più tempo, quindi ne approfitto sfacciatamente. Ci piace descrivere come abbiamo visto ubicate le vostre abitazioni. Le Venezie, un tempo famose, piene di nobili genti, a meridione raggiungono Ravenna e il Po. A oriente godono della bellezza del litorale ionico. Qui voi avete le dimore alla maniera degli uccelli acquatici. Infatti, chi ora si vede sulla terra in seguito compare su un'isola, cosicché a maggior ragione ritieni che colà si trovino le cicladi, dove vedi che l'aspetto dei luoghi cambia repentinamente. Qui l'alternarsi delle maree ora chiude, ora lascia in secco la superficie dei campi come una reciproca inondazione. Naturalmente i tribuni marittimi delle Venezie, che dovevano essere dei funzionari molto modesti, non avevano capito niente di questo scritto. Ma la soluzione è abbastanza ovvia. O c'era qualcuno che glielo spiegava, o c'erano due versioni, una letteraria, che poi finisce nelle varie, e una semplice con l'ordine di servizio. Io opterei per la seconda ipotesi. A somiglianza di quelle isole le case appaiono sparse in larghi tratti di mare e non le ha offerte la natura, ma le ha prodotte il lavoro umano. Infatti all'intreccio dei vimini flessibili si aggiunge la solidità della terra e non si teme affatto di opporre ai flutti marini una difesa così fragile. Un'unica risorsa hanno gli abitanti, mangiare soltanto pesci a sazietà. Avrò mangiato che qualcos'altro, io penso, insomma non solo pesce, ma anche il pesce a Venezia è ancora rinomato. Ma è un'esagerazione, mangiavano solo pesce. Qui la povertà convive allo stesso modo con la ricchezza. Un solo cibo sostenta tutti. Uno stesso tipo di abitazione rinsera ogni cosa. Non conoscono l'invidia riguardante le case e vivendo con questo tenore stanno fuori del vizio al quale, come si sa, tutto il mondo va soggetto. Tutto il loro sforzo è ridotto alla produzione del sale. Invece di aratri e di falci fan rotolare dei rulli di cui viene ogni vostro provento dal momento che possedete in essi anche gli altri generi che non producete. In un certo qual senso li si coni alla moneta per il proprio sostentamento. Perciò con cura diligente mettete in sesto alle navi che legate le vostre pareti come fossero animali, affinché quando Lorenzo, uomo di grandissima esperienza incaricato di procurare del rap, si metterà a chiederle e vi affrettate a correre per non ritardare con alcuna difficoltà di portarci gli acquisti a noi necessari. Dicevo ricapitolando che in epoca romana la Venezia ha una sua dimensione sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. I romani, per l'esattezza dell'imperatore Augusto, avevano riorganizzato l'amministrazione italiana e la Venezia, che come ne abbiamo anche altre città ovest, che questa sede però non ci riguarda, viene a far parte della decima regione della provincia italiana, ovvero la regione che prendeva il nome dalle due popolazioni principali, la Venezia, Venetia e Tistria. I Veneti più a sud, gli Istri più a nord-est. Questa regione che era piuttosto grande e poi dura per tutta l'epoca romana, un tempo di Ecclesiano diventa provincia, ma i confini non cambiano. Nel corso del V secolo, quando il mondo romano comincia a scricchiolare, la Venezia risente delle invasioni barbariche, dei danni provocati dalle invasioni barbariche e sicuramente, come accennavo prima, in questi casi dovevano esserci temporanei spopolamenti, spostamenti di popolazione alla volta delle lagune. Quando i visigoti arrivano in Italia, i visigoti all'aricolo in 401, e si entra in Italia delle Alpi Giulie, laddove i romani avevano costruito uno sbaramento fisso, i claustra alpi un Iuliarum, che non servono a nulla, come in genere gli sbaramenti fissi tipo Linea Maginò, e entrano in Italia devastando, in primo luogo la regione Veneta era la prima quando si scendeva dalle Alpi, poi era bella pingua e grassa, attirava parecchio e sicuramente anche in questo caso c'è uno spostamento di popolazioni verso la laguna. Lascio nel vago perché non abbiamo delle attestazioni precise. All'arico comunque se ne va, a un certo punto se ne va perché arriva Stilicone, uno degli ultimi generali romani, che poi tanto romano non era, Stilicone era un mezzo romano, un mezzo romano e un mezzo barbaro, a seconda dei gusti. Stilicone lo vince in battaglia nel 400 e lo costringe a ritirarsi, poi all'arico lo sappiamo tornerà quando Stilicone muore nel 408, i visigoti invadono l'Italia e hanno dal loro punto di vista il privilegio di andare ad assediare e conquistare Roma nel 400-410. E di nuovo andando avanti nel tempo c'è l'invasione di Attila, l'abbiamo già vista. Poi ancora nel 490 arrivano gli ostrogoti di Teodorico, questi ostrogoti di Teodorico erano stati mandati dall'imperatore d'Oriente, da Zenone, in modo che cacciassero il barbaro Doacre che aveva, secondo il loro punto di vista, usurpato il trono, aveva deposto l'ultimo imperatore legittimo, Romolo Augustolo, e governava l'Italia senza averne titolo. E poi ancora nel 539, sempre dall'area orientale, dalle Valpi Giulie, scendono nel Veneto alcuni reparti bizantini. In nessun caso si sa esattamente cosa sia successo, ma l'ipotesi che vi siano stati temporanei spostamenti verso la laguna è sicuramente un'ipotesi incredibile. Ma come dicevo prima, trovandosi in una laguna inospitale, anche oggi a volte non è molto ospitale, oggi è giusto l'anniversario della grande acqua alta dell'anno scorso, anche più o meno ha devastato Venezia, più del lockdown. Anche allora non doveva essere il massimo dell'ospitalità. dobbiamo aggiungere la presenza di Zanzare, la presenza di Beittopuni, che qui non mancano mai. Insomma, Venezia è una città che si ama o si odia, ma essa è una città, allora non era una città, era un agglomerato di campi, di isole più o meno abitate, ma meno che più. Sicuramente questa gente poi torna indietro, avevano lasciato le loro cose, i loro affetti, i loro ricordi, tutto avevano lasciato. I barbari se ne sono andati noi ce ne torniamo a casa. E in questo modo c'è una specie di tiramolla, insomma, non può nascere Venezia perché non ci sono le condizioni per poterla far nascere. Però le lagune servono, non solo per navigare, per portare le derrate, per questo o per l'altro. Servono come rifugio. I germani, i barbari germani, a parte gli uni, tutti gli altri che arrivano in Italia sono germani, non avevano simpatia per il mare, per la flotta, per l'acqua. Già per loro mettere i piedini a mollo non era il massimo del piacere. Gli unici barbari che navigano sono i vandali, ma i vandali non arrivano mai da queste parti. Si limitano a prendere l'Africa, dall'Africa arriveranno a conquistare Roma nel 455, ma non si spingono mai a nord, insomma, non danno fastidio. Questa situazione dura fino al VI secolo. Teodorico riesce a impossessarsi dell'Italia, si proclama re delle sue genti, governa in maniera abbastanza felice il nostro disgraziato paese, a quanto pare, disgraziato già da allora andando avanti. Teodorico però muore nel 526, quando i rapporti con l'impero d'Oriente si sono un po' raffreddati e la sua successione presenta delle difficoltà. Nello stesso tempo nell'impero d'Oriente a Costantinopoli è diventato imperatore giustiniano. Giustiniano diventa imperatore nel 527. Giustiniano è il più brillante degli imperatori di Costantinopoli, il più conosciuto, il più dinamico sicuramente. Giustiniano ha un grande progetto di ricostruzione dello Stato e questo progetto passa attraverso la riforma, la riforma del Gale, la riforma amministrativa, la riforma di tutto l'apparato che poteva riformare e la riconquista dei territori occidentali che secondo il suo punto di vista erano stati usurpati dai barbari, dai barbari invasori. Giustiniano avvia la riconquista facendo riprendere l'Africa a suo miglior generale, a Belisario, nel 533-534. Poi il passo successivo è la riconquista dell'Italia. L'Italia è malmessa in quel momento, il Teodorico è morto nel 526, gli succede il nepotino Atalarico che però muore giovanissimo. La reggenza viene assunta dalla madre di Atalarico, Amalassunta, figlia di Teodorico, la quale però di lì a poco viene, si associa al trono un cugino che si chiama Teodato, viene deposta e uccisa dallo stesso Teodato. L'uccisione di Amalassunta, siamo nel 534, consente Giustiniano di avere il casus belli per invadere l'Italia. È effettivamente un esercito imperiale. Nel 535 sbarca in Sicilia, dando l'inizio a una lunghissima e sanguinosissima guerra che noi normalmente chiamiamo la guerra gotica, che dura nella fase più calda, fino a 552, però ha degli epigoni, delle conseguenze che vanno ancora più in là, fino a 567 addirittura. Questa guerra gotica porta alla riconquista bizantina dell'Italia. Oggi si parla molto dei bizantini, in qualche anno sono diventati più interessanti e mi dispiace che però devono essere più tanto giovane. Quando ero giovane i bizantini sembravano come i venusiani. Adesso invece hanno ripreso vigore nella letteratura, nello studio della storia, perfino a RaiStory ho sentito non molto tempo fa. Il conduttore mi diceva che purtroppo in Italia si parla poco di bizantini. La cosa mi è riempita di gioia, parlare di bizantini. Il Montiale sembrava essere una Vox Clamance in deserto. Adesso no, si è capito che questi sono parte integrante della storia medievale. E allora si è capito che i bizantini non sono i bizantini, i bizantini sono i romani d'Oriente. Nessuno di loro sarebbe chiamato bizantino, la cosa le avrebbe dato anche fastidio. Perché il termine viene coniato in epoca moderna per distinguoli dai romani veri e propri. Secondo loro sono i romani, i romani della parte orientale dell'impero, la quale è sopravvissuta la caduta dell'Occidente. Torniamo a noi. Questa guerra, non le racconto le fasi perché si andrebbe molto lontano, termina una prima volta nel 540 quando Belisario prende Ravenna. Però si riavvia l'anno successivo con un nuovo re ostrogoto, Totila, il quale riconquista gran parte dell'Italia, fino a che Giustiniano non si decide, non esce dal suo torpore e manda un grande esercito in Italia, al comando non più di Belisario, bensì di De Leonu con Arsete, che vince gli ostrogoti in una grande battaglia che si combatte presso Gualdotadino, 552. E poi ancora il re che succede a Totila, Teia, viene a sua volta vinto e ucciso in una seconda battaglia in prossimità del Vesuvio. Segue a questa guerra un'invasione di Franco Alemanno nel 553-554. Segue ancora da parte di Arsete la riconquista delle cittadelle, dei castelli che non si volevano arrendere. Una rivolta militare che porta agli avvenimenti bellici, come dicevo prima, fino al 567. L'Italia che esce da questo conflitto è un'Italia incredibilmente trasformata. Mi spiego meglio. La caduta dell'impero d'Occidente nella penisola italiana aveva si impattato, ma non in maniera così drammatica come era successo in altri luoghi. la vita, passate le bufere occasionali, era tornata pressoché alla normalità. Il vecchio mondo continuava a vivere nella forma, nella sostanza. I rappresentanti più visibili di questo vecchio mondo, cioè gli aristocratici, l'aristocrazia senatoria, proseguiva i propri lussi, le proprie ambizioni, manteneva la propria ricchezza, rivestiva come Cassiodoro le cariche pubbliche. Tutto questo viene meno con la guerra gotica, la quale opera una distruzione pressoché integrale del territorio italiano. Distruzione che si esprime attraverso la forte diminuzione, forte calo demografico, la distruzione di città, le epidemie e carestie ricorrenti, i danni che sono portati dagli eserciti quando passano. Si può dire, come normalmente si dice, che se il Medioevo viene considerato come i più, lo considerano una fase di regresso rispetto all'epoca classica, il Medioevo in Italia comincia in questo momento, cioè comincia con la guerra gotica e poi prosegue per parecchi secoli fino all'epoca comunale, quando come è noto ci sarà ripreso. Per fare un esempio, 539, Milano viene rasa al suolo, tutti i maschi vengono uccisi e le donne sono date in schiavitù. Roma, fine del 546, è deserta. Per qualche settimana Roma rimane deserta finché lentamente viene ripopolata e a noi fa un po' specie l'idea di questa Roma completamente deserta, tenendo presente che ancora una generazione prima era una città ricca, brillante. Roma in sostanza non aveva sofferto, nonostante i due saccheggi, in modo particolare della caduta dell'Occidente. Comunque sì, i bizantini recuperano l'Italia, ripristinano la vecchia amministrazione. La Venezia e Tistria torna a esistere, come si era esistita prima. Un colonista del tempo dice che l'Italia era tornata l'antica felicità. Avremmo molti dubbi, naturalmente, sulla felicità a cui sarebbe tornata l'Italia, ma se lui lo dice lo prendiamo senza discutere. Però non finisce lì, non finisce lì perché l'anno successivo, alla fine degli avvenimenti bellici legati alla guerra gotica, cioè nell'anno 568, almeno secondo la maggior parte degli storici, alcuni dicono 569, arrivano i Longobardi. Questi Longobardi erano un popolo germanico, il quale girava molto per l'Europa, alla fine si era stanziato in Pannonia, grossomodo nella tua lungheria, e di qui i Longobardi decidono di migrare alla volta dell'Italia. Parte tutto il popolo Longobardo, se calcola fossero 100.000 persone, 100.000 anime, supera come sempre i vali delle Alpi Giulie, non incontra una grande resistenza da parte dei bizantini, per motivi che a noi fuggono, e inizia a un una sistematica conquista dell'Italia, che le porta dapprima, nell'arco di quattro anni, a sottomettere gran parte del nord, poi a spingersi verso il centro e verso il sud, e a radicarsi al centro, a Spoleto, dove costituiscono loro locato, al sud, a Benevento. Per quale motivo i bizantini non abbiano resistito adeguatamente ai Longobardi, è una questione sulla quale si è molto discusso, che questa sede dice poco. Ciò che a noi interessa è che la loro conquista invade a sale, dapprima i territori della Venezia e la maggior parte dei centri della Venezia cadono, tranne alcuni che rimangono in mano ai bizantini. Rimangono in mano ai bizantini o perché i Longobardi non li vogliono assediare, o perché sono troppo difficili da assediare, teniamo presente che così come non navigavano i barbari avevano scarsa dimestichezza con gli assedi e di fatto sfuggono perlomeno alla loro conquista iniziale. Nello stesso tempo il loro passaggio provoca il solito spostamento verso la laguna, ma questa volta è uno spostamento definitivo, perché i Longobardi non hanno alcuna intenzione di andarsene, a differenza degli altri barbari che morodevano e fuggivano. Questi si fermano in Italia, si stanziano in Italia. Inoltre i Longobardi, oltre a essere, come dire, pessimi vicini di casa, perché erano noti per la loro crudeltà, cioè non era il caso di averli in condominio, dal punto di vista religioso sono o cristiani eretici, cioè ariani, oppure ancora pagani. Quindi le autorità religiose, che sembrano essere quelle che danno la spinta alla prima migrazione, non hanno alcuna voglia di stare sottomessi ai Longobardi e fuggono. Fuggono verosimente passandosi dietro la ricchezza della Chiesa, il tesoro della Chiesa, il loro clero, buona parte se non tutti i loro fedeli. La prima fuga di cui noi abbiamo conoscenza è quella del patriarca di Aquileia. La vecchia Aquileia, sopravvissuta a tanti drammi, ha un patriarca che si chiama Paolino. È uno storico tardo, che è Paolo Diacono, dice che non volendo sottostare alla perfide di Longobardi, questi fugge alla volta di Grado, cioè del castello vicino, castello di Grado, una decennia di chilometri da Aquileia, che era stato il porto di Aquileia, dove nel V secolo era stato costretto un castello che quindi offriva quella garanzia di sopravvivenza di cui già vi ho parlato, ma questa volta è una garanzia permanente, insomma non è una garanzia a tempo, perché questa gente, anche se probabilmente il patriarca fa un tentativo per tornare a Aquileia, questa gente decide di stabilirsi in qualche modo nella laguna. Stabilirsi a Grado probabilmente non era neanche tanto complicato, noi tra l'altro a Grado 579 troviamo la presenza di numerosi reparti militari bizantini, a Grado il patriarca Elia, che succede a questo Paolino, fa costruire la chiesa di Sant'Eufemia, fa fare un bel pavimento a mosaico, come usava nell'area orientale del Veneto, e i donatori, gli oblatori, sono autorizzati a lasciare il loro nome su parte del pavimento, indicare quanta parte di questo pavimento hanno fatto costruire la loro spesa. Tra questi donatori ci sono gli appartenenti a tre reparti militari bizantini, numerus, come si diceva allora, l'equivalente potremmo dirne di reggimento, di Perso-Iustiniani, un numero di Cadiziani, un numero di Tarvisiani. Quindi, considerando che il numero scontava più o meno 500 uomini, due di questi erano reparti di cavalleria, Grado, che è piccolina, doveva essere piena dei soldati, insomma, almeno 1.500 soldati, più i cavalli e le rimonte. Quindi doveva essersi straordinariamente popolata a causa, in conseguenza, più che a causa della migrazione alla volta della laguna. Il passo successivo, da parte del re Alboino, che conduce la prima evasione Longobardi, è la presa di Treviso. Treviso, secondo la tradizione, si arrende ai Longobardi senza combattere. Il vescovo consegna la città e Alboino non la saccheggia, come erano abituati a fare questi Longobardi. Sicuramente è andata così, ma siccome, come dicevo prima, a Grado c'è un reparto di tarvisiani, cioè di soldati che ben andavano una città di Treviso, probabilmente arruolati a Treviso, è probabile che questi abbiano ottenuto l'autorizzazione alla loro volta a migrare verso Grado, quindi a contribuire al popolamento della nuova città. Questo fenomeno, città che sopravvivono allo stanziamento di Longobardi, progressiva migrazione verso la laguna, man mano che queste città cadono, dura fino al secolo, fino al secolo successivo. Verso il 601 cade Padova, viene presa dai Longobardi. Gli abitanti di Padova cosa fanno? Fanno le valigie e si spostano verso la laguna, seguendo il Brenta, il loro fiume navigabile, vanno a insediarsi dalle parti di Chioggia, Chioggia e Malamocco, antica Malamocco. Gli abitanti di Concordia, Giulia Concordia, la quale cade verso il 615, a loro volta vanno a Caorle. Gli abitanti, gli ultimi a rimanere sotto il dominio di Costantinopoli sono quelli di Altino e di Oderso, ma anche Altino e Oderso finiscono per cadere verso il 639, quando il re Longobardo Rotari riprende l'espansione e si ha il nuovo spostamento verso la laguna. Ripeto che di tutti questi avvenimenti siamo molto poco informati, abbiamo delle menzioni brevissime nelle fonti, che ci dicono la cosa essenziale, ci dicono che arrivano i barbari e se ne vanno. Per quanto riguarda Altino, sappiamo che gli abitanti se ne vanno a Torcello, nelle isole vicine. La leggenda veneziana, una parte, una sezione della leggenda veneziana, dice che essi sono guidati a Torcello da un tribuno che si chiamava Aurio, colonizzano la città di Torcello, poi a questo si unisce una serie di prodigi, di costruzione di chiese, chissà cosa c'è di vero. Di fatto, per quanto riguarda lo spostamento a Torcello, abbiamo una testimonianza, una delle pochissime testimonianze materiali, ovvero sia l'epigrafe che si trova nella chiesa di Santa Maria Assunta Torcello. Questa epigrafe latina, di cui manca un pezzo tra l'altro, ma è stato ricostruito in maniera verosimile, risale all'anno 639, ricorda la costruzione della chiesa della Santa Maria di Dio ad opera dei profughi della terraferma. Questa chiesa viene costruita a cura, spesa di un generale bizantino che si chiamava Maurizio, viene edificata dalle fondamenta e noi la leggiamo, la interpretiamo coerentemente come un'offerta fatta dopo che i venetici di terraferma sono arrivati sani e salvi nella laguna, probabilmente, anzi sicuramente, protetti dall'esercito di Bizanzio e si sono insediati appunto a Torcello. Queste epigrafe si trova, si vede tuttora, si trova nella parete della chiesa, la chiesa poi è stata rifatta nell'undicesimo secolo, adesso si chiama Santa Maria Assunta, allora era Santa Maria madre di Dio, c'è anche la traduzione sotto, è bruttina, è come si dice a Venezia un rovinaccio, ma come diceva, se ben ricordo archiloco, a me non piacciono i generali che hanno i capelli un po' matati, ben pettinati, mi piacciono quelli brutti e piccoli con le gambe storte, allora nel nostro caso possiamo dire ci piacciono le epigrafi brutte e piccole in cui mancano le lettere perché ci dicono parecchie cose in mancanza di meglio, ancora una lapide di rosetta non è stata trovata, Venezia, se neanche ci dia una spiegazione bilingue dell'origine della città, ma non si sa mai andando avanti nel tempo. Dicevo, 639 spostamento da Altino verso Torcello, isole limitrofe e contemporaneamente spostamento da Oderzo laddove doveva esistere un comando militare bizantino alla volta di Eraclea. Eraclea è la città nella Laguna Nondo, è fatta costruire dall'imperatore Eraclio, da lui per il nome, quindi bizantino non aveva nessuna voglia di lasciare la Venezia, infatti costruiscono una nuova capitale nella città di Eraclea. Eraclea poi scompare nel Medioevo per le offese della natura e degli uomini, ma è stata recentemente ritrovata, scavata anche una ventina di anni fa, anche se i risultati del cavo non sono stati pubblicati, nemmeno che io sappia. A Eraclea si sposta il governo bizantino della Venezia, come è diventata Venezia marittima. Il Dux, secondo una cronaca Veneziana antichissima, con i suoi funzionari, prende dimora nella città di Eraclea. Ricapitolando tutto il lungo discorso che ho fatto, nasce la genesi di quella che sarebbe divenuta Venezia. Non è un fatto, come vuole la leggenda, dall'oggi al domani, ma è un fatto molto lungo, che si dipanna nel corso degli anni. E non è casuale, perché nasce quando arrivano i Longobardi, perché la gente non voleva sottostare ai Longobardi. Aveva paura dei Longobardi, giustamente, però probabilmente, non dovevano essere. Era difficile giocare a tre sette con i Longobardi, in parole poche. Era meglio tenerli a distanza. Quindi tutte queste persone fuggono, ma non è che fuggono per fondare una città con il Campanile di San Marco o il Palazzo Ducale. Fuggono per disseminarsi nelle isole in maniera apparentemente casuale, ma poi non è tanto casuale, perché seguono i loro fiumi, vanno dove c'erano gli sbocchi al mare dei loro fiumi, e costituiscono una specie di federazione delle isole. Federazione delle isole, però, che non è indipendente, non è autonoma, avviene sotto il controllo dei bizantini. E questo è il punto centrale. Come dicevo prima, i veneziani non sono molto favorevoli a riconoscere la dominazione bizantina. Ma questa dominazione effettivamente c'è. C'è e disciplina il meccanismo per cui si costituiscono gli insediamenti lagunari. Da prima la capitale è Araclea, cioè la loro città. Poi nel 742 questa capitale viene portata a Malamocco. E verso l'811 poi sarà portata a Rialto, dove c'è ancora la basilica e il palazzo Ducale. E questo spostamento della capitale a Rialto significa, in un certo senso, l'inizio della formazione vera e propria, vera e propria di Venezia. I bizantini non hanno alcuna intenzione di mollare l'Italia e i Longobardi, anche se perdono continuamente terreno. E dopo aver tentato più volte di cacciarli via, fanno una modifica, una riforma di natura amministrativa. Cioè introducono in Italia un nuovo magistrato che ha il titolo di Esarca o Esarco, come oggi si dice più facilmente. Questo Esarca, risedente a Ravenna, è una specie di vicerè, ha dei poteri assoluti in materia militare, in materia civile e la sua presenza serve per rafforzare l'amministrazione italiana e tenere a bada il più possibile i Longobardi. I reparti militari bizantini presenti in Italia sono pochi. Nell'epoca esarcale si militarizzano tutte le popolazioni, tutti coloro che sono in grado di portare le armi, compreso i chierici, i monaci, sono obbligati a portare le armi per difendere il territorio. Questa riforma esarcale, la militarizzazione delle strutture abstrattive, probabilmente efficace, ma ritarda la caduta dell'Italia bizantina. Infatti l'esarcato di Ravenna dura fino a 751, quando l'ultimo esarca sparisce. I Longobardi prendono Ravenna e la creazione, l'istituzione bizantina viene meno, cioè il nord è il centro dell'Italia, non sono più bizantine, passano in mano o ai loro nemici o come Roma lo stato della Chiesa, l'incipiente stato della Chiesa. I bizantini si mantengono solo il sud e nel sud poi creeranno una dominazione, una civiltà che è durata fino all'undicesimo secolo. È molto difficile poter dire cosa succede dell'area veneta nell'epoca esarcale, a parte i contrasti religiosi sui quali siamo relativamente ben informati. Ne sappiamo pochissimo. In linea di massima possiamo dire che Venezia resta abbastanza tranquillamente sotto i bizantini, i bizantini la controllano. L'unica cosa che conosciamo, anche se facciamo fatica a collocarla nel tempo, conosciamo con una certa esattezza, è la nascita del Ducato a Venezia. Mi spiego in italiano corretto. I bizantini per mantenere i loro territori militarizzati ne mettevano a capo dei generali, che potevano avere il titolo di duca, dux o di magister militum. Lo stesso potrebbe essere avvenuto nella Venezia, oppure la Venezia potrebbe essere rimasta sotto l'amministrazione congiunta dell'Istria, non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che in un certo momento, a quanto ci racconta uno storico veneziano, i venetici decidono di eleggersi un loro dux, un loro duca, abbandonando l'amministrazione dei tribuni che era durata per 150 anni. Dobbiamo chiarire, sotto i duchi c'erano il governo delle singole città, dei singoli castelli e degli ufficiali inferiori, che poi formano una specie di aristocrazia, che avevano il titolo di tribuni. A quanto pare le lagune venete, le isole delle lagune venete, sono governate in maniera più o meno autonoma dai tribuni e questo governo però a un certo punto stufa e anche i venetici decidono di avere un'autorità più accentrata eleggendosi un loro duca. Secondo la tradizione raccontata dai venetici, che naturalmente non vedono i bizantini in questa operazione, il primo duca di Venezia sarebbe stato un certo paulicio, pauluccio, eletto in una data che oscilla tra 697 e 715 più o meno, più probabile 697. Questo sarebbe stato il primo duca, che poi diventa doge di Venezia, cioè avrebbe inaugurato una tradizione destinata a durare fino al 1797. È vero? Non è vero? Non lo sappiamo. La storiografia più recente mette in dubbio questo racconto dei veneziani. Dice non è possibile che sia stato eletto un duca in maniera autonoma dalle popolazioni venetiche che erano soggette a Costantinob. I veneziani raccontano una balla, evidentemente, e indicano piuttosto il terzo duca della lista tradizionale, un signore che si chiamava Urso, come il primo vero duca di Venezia. Non saprei dare una risposta. Diciamo che ci hanno tolto anche il primo duca di Venezia, oltreveci dato la qualta, il destino ci ha tolto anche il primo duca di Venezia. Paolicio. Però a Venezia molti continuano a credere che Paolicio sia effettivamente stato, sia stato il primo duca di Venezia. Devo abbreviare, purtroppo, perché la mia tendenza è di essere logorroico. Voglio dire, 751 cade l'esarcato, Venezia rimane bizantina. Ci sono contrasti interni, come ci sarebbero stati anche in seguito. Però i bizantini continuano a fermare la loro autorità sulla città. Quando infatti il re Franco Pipino, a cui Carlo Magno aveva assegnato la Venezia come patrimonio personale, aggredisce le isole per impossessarsene. I bizantini intervengono militarmente, mandano una flotta, due flotte in laguna, una nell'806 e l'altra nell'808, a far guerra ai franchi. E a quanto pare il tentativo del re Pipino di entrare in laguna viene sventato. Non è del tutto sicuro, ma ammettiamo che sia andato così. La cosa che è sicura con la pace di acquisgrana tra Franchi e Bizantini, la Venezia viene assegnata a Costantinopoli. Quindi rimane ancora provincia bizantina, nonostante il fatto che tutto il nord del dominio di Bizanzio fosse stato polverizzato. Ciò non di meno, nel corso del prima metà del XIX secolo, sembra che Venezia lentamente sia franchi dalla soggezione a Bizanzio. Per parlare di indipendenza veneziana, non bisogna pensare a una rivoluzione, a combattimenti, è un affrancamento indolore. Adoltre una cosa del genere è successa anche in Sardegna o a Napoli, territori già di dominio bizantino. Progressivamente i veneziani si allontanano dal dominio di Bizanzio, il dominio di Bizanzio era lontano. Nel momento in cui i bizantini non mandano più soldati, si sa che quando non c'è il gatto i topi cosa fanno? Infatti nella prima metà del XIX secolo noi abbiamo dei segni che sembrano indicativi. Un segno che nel 1840 i bizantini fanno un trattato con l'imperatore lottario senza passare dalla mediazione di Bizanzio. Suddito non potrebbe fare così, sembrano comportarsi come uno stato indipendente. Un altro segno, sicuramente più importante, è che decidono i venetici veneziani, questi personaggi così sfumati di cui ben poco si può dire, non lasciano traccia, quasi niente che fisicamente ricordi quest'epoca. I venetici decidono di trasferire la capitale a Rialto. Quando parlo di Rialto non si intende del Rialto attuale, si intende l'isola di Rialto che va fino alla San Marco attuale e qui costruiscono il palazzo, quello che sarebbe poi divenuto il palazzo ducale che c'è oggi, la cappella del Doge che sarebbe divenuta la chiesa di San Marco. In altre parole la spostano alla capitale da Malamocco dove era al momento e si danno una fisionomia che comincia ad essere una fisionomia di cittadina. Il governo risiede a Rialto, le prime abitazioni convergono sulla nuova sede. Rialto si avvia a essere una capitale non più di una federazione di isole ma avvia sia la capitale della Venezia vera e propria. Un altro segno significativo nell'828, secondo la ben nota tradizione, i veneziani portano da loro le reliquie di San Marco. La leggenda voleva che San Marco avesse indicato Venezia come sede delle sue spoglie. La realtà è appunto che portano da Alessandria le reliquie di San Marco, le depositano nella cappella del Doge. e per noi che ovviamente viviamo dopo l'illuminio possiamo anche dire beh con questo. Per loro invece era molto importante. Era molto importante perché non solo la tradizione diceva che San Marco aveva predicato in Laguna ma anche si tratta di un santo locale, di un santo nazionale che spodesta San Teodoro, il bizantino, San Teodoro stratelate che i bizantini avevano imposto e quindi da contribuisce a dare una fisionomia nazionale alla città che sorge. Brevemente i rapporti tra Venezia e Bizanzio non terminano lì. Venezia rimane nell'orbita della mentalità, del sistema di valori bizantini ancora per secoli. Le istituzioni veneziane delle origini risentono di quelle di Costantinopoli. I Doge che in origine sono Doge re, non sono Doge costituzionali come saranno in seguito. Si comportano come i sovrani di Bizanzio, tendono a rendere ereditario il potere e a sposarsi con le bizantine, a ricevere i titoli di corte da Costantinopoli. Forte è anche l'influsso bizantino sull'arte, pensiamo solo alla chiesa di San Marco che ripete nella sua architettura una chiesa scomparsa di Costantinopoli. Forti inoltre sono i legami politico-militari con Costantinopoli. Veneziani e bizantini hanno in comune la necessità di tenere sgomber le rotte adriatiche di quelli che impedivano la libertà di commercio. In sostanza c'è un rapporto fiduciario che ha solo piccole interruzioni e un bizantinismo, chiamiamolo così, veneziano, che non è uguale in altre città del medioevo italiano. I veneziani guardano l'Occidente per i loro interessi, ma guardano soprattutto a Costantinopoli, non rinnegano quella che era stata la loro originaria fondatrice. L'apice di questo bizantismo veneziano si raggiunge nell'anno 1082 di queste fortune veneziane nel mondo bizantino. Cosa succede nel 1082? Succede che l'imperatore Alessio I Comneo ha bisogno dell'aiuto dei veneziani per combattere i normanni e concede ai veneziani enormi privilegi. Concede loro un quartiere a Costantinopoli, concede loro soprattutto di poter commensare in tutto l'impero senza pagare dazi. Questo avvantaggia Venezia di fronte alle altre repubbliche marinari, di fronte al commercio bizantino, ma soprattutto segna l'inizio delle grandi fortune veneziane in Levante. Questo trattato, che si chiamava allora, con la terminologia tecnica, Crisobulla, poi viene rinnovato nel secolo successivo, ma siccome i grandi amori non durano eterno, a un certo punto bizantini e veneziani entrano in rotta di collisione. Per esattezza, nel 1171 l'imperatore di Bisanzio, Emanuele I Comuneno, fa arrestare i veneziani presenti nel suo impero, ne fa confiscare i beni per motivi ovviamente di supremazia, di dominio e questo dà inizio a un contrasto molto forte tra Venezia e Costantinopoli, il cui esito è da considerare la quarta crociata, 1202-1204. La quarta crociata secondo me segna la fine simbolica, come dicevo prima, di questo particolare rapporto tra Venezia e Costantinopoli. Venezia nasce bizantina, si mantiene nell'orbita dei valori bizantini per secoli, approfitta della sua alleanza speciale, particolare con Bisanzio, ma a un certo punto il rapporto diciamo filiale si inverte, si intende Venezia a prevalere su Costantinopoli. Infatti a 1204 i veneziani si conquistano a Costantinopoli, approfittando della deviazione della quarta crociata, istituiscono un impero latino a Costantinopoli insieme agli altri crociati, impero che operato dura poco, fino a 1261, e partecipano brutalmente al saccheggio della città. Si è detto però a loro onore, e con ciò concludo, e a nostro onore che noi siamo i discendenti, che a differenza di quanto fanno i crociati, che distruggono un po' tutto, fondono le statue, spaccano per pura libidine di distruzione, i veneziani conservano e portano a casa loro le opere d'arte. Se oggi vediamo i cavalli, se oggi vediamo tante belle cose, se oggi potremmo visitare, se fosse aperto, il tesoro di San Marco, lo dobbiamo questi ladroni veneziani del 1204 che portano tutto qua. Diversamente tutte queste meraviglie difficilmente sarebbero sopravvissute alla conquista turca del Quattrocento. E con ciò avrei terminato. Bene, professore. Una storia vincente, davvero complessa, molto complessa, soprattutto per la mancanza di fondi, per la povertà delle fonti, e che però ci permette di percorrere un lungo periodo della vita della nostra penisola, anche se si parla di Venezia ovviamente che è centrale nel discorso, seguendo le vicende dell'impero romano, seguendo le vicende della divisione tra impero romano d'occidente e impero romano d'oriente, le vicende di Costantinopoli e la nascita di una delle città più belle ancora oggi e più importanti del mondo. Io la ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito e di averci regalato questo racconto di Venezia, prima di Venezia. Ricordo, per chi avessi piacere di acquistare il libro, e spero siano in tanti, perché può capire ancora meglio quello che è accaduto, il titolo è Venezia, prima di Venezia, mito e fondazione della città lagunare. L'autore è Giorgio Ravegnani, che è stato nostro ospite, l'editore è Salerno editrice nel 2020, quindi un libro uscito da pochissimo, e consiglio davvero a tutti di acquistarlo. Professore, grazie ancora della... Grazie a voi. Grazie a voi. Spero di rivederla presto in presenza, senza intermediazione telemanica. Speriamo tutti di vederci presto in presenza. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a lei. Grazie a tutti.